La bonifica delle caditoi nel Comune di Giarre, circa 800 quelle inserite in un piano operativo predisposto dall'Ale Tecnica del Comune, è stata al centro di una serie di rimbi legati in una prima fase alla carenza di fondi e più recentemente anche in seguito all'esito della recente gara andata a deserta. L'Ufficio Tecnico, in piena festività natalizia, ha programmato per oggi martedì una nuova gara, questa volta ricorrendo alla formula dell'affidamento diretto con migliore offerta. L'obiettivo è fare presto, avviando in tempi ragionevolmente rapidi gli interventi manutentivi per i quali è stata preventivata una spesa di circa 40.000 euro. I lavori dunque potrebbero iniziare presto, almeno subito dopo le festività natalizie. Sulla scorta della positiva esperienza maturata in occasione di precedenti interventi eseguiti nel territorio comunale per lo svolgimento delle opere manutentive, saranno impiegati mezzi dotati di escavatori a risucchio in grado di aspirare velocemente qualsiasi tipo di materiale. Tale procedura, oltre ad ottimizzare i tempi di attuazione, consente anche di conseguire risultati importanti in termini di efficienza. Oltre all'impiego dell'escavatore munito di idrovore, una squadra eseguirà le operazioni spurgo a mano, in particolare in quelle strade di piccole dimensioni, come per esempio la via Carolina, alle spalle della centralissima via Carlipoli, non raggiungibile dai mezzi meccanici. Complessivamente sono 800 le caditoie delle oltre 4.000 presenti, che dovranno essere spurgate tra quelle ritenute maggiormente pericolose e che ricadono in quei punti vulnerabili, si ricorda via Calipoli, via Lesturzo, via Libertà, via Pirandello, Corsa Italia, il sottoponte di via Martri di via Fani, la via Pentulo, con incrocio con via Ruggero, nella frazione di Santa Maria alla Strada. Il programma prevede inoltre anche la realizzazione ex novo di alcune caditoie per il drenaggio delle acque meteoriche in due distinte zone della città, via della Cace nella frazione colinare di San Giovanni e Montebello e lungo tratto di via Romagna nel quartiere Popolare Iungo, teatro di pericolosi allagamenti.